...onorata di ricoprire questo incarico. Anarita Montagna, 53 anni, sposata a due figli, già vicecomandante del corpo della polizia locale di Fano, da questa mattina è ufficialmente il nuovo comandante del corpo, dopo che due anni fa Giorgio Fuligno lasciò per i raggiunti limiti di età. A cucire sulla divisa le mostrine di dirigente superiore è stato il concorso pubblico che nella primavera scorsa si è tenuto a Fano e dove la montagna è risultata vincitrice. Cerimonia di presentazione ufficiale al corpo questa mattina in sala della Concordia, alla presenza anche del sindaco Seri e dell'assessore di riferimento, durante la quale il nuovo comandante ha dettato le linee di indirizzo del suo incarico all'insegna della legalità, ma anche del rapporto costruttivo con il cittadino, fermezza e rispetto delle regole, ma con cortesia, mirata ad un rapporto di fiducia. Innanzitutto devo dire che sono onorata di ricoprire questo ruolo, in particolare a Fano perché, come ho detto, è una città bella, è una città con una buona vivibilità e dove noi opereremo al meglio. Tant'è che la nostra missione sarà proprio quella di avere un occhio sempre vigile, con responsabilità, buonsenso e cortesia, a presidio dell'ordinato vivere civile, nel rispetto della legalità. Sarà questo il fondamento del nostro lavoro. Dopo i doverosi ringraziamenti anche al suo collega, il commissario Alessandro Di Quirigo, col quale ha condiviso il comando in alternanza in questi due anni e che ricoprirà il ruolo di vicecomandante, la Montagna ha chiesto il supporto delle istituzioni locali anche per colmare il deficit di personale e di organico che, come in altri settori, rappresenta un ostacolo al presidio pronto e alla giusta risposta alle necessità del territorio. C'è l'idea di rimporpare nei prossimi due anni l'organico di almeno sette figure nuove con un concorso più avanti per dei nuovi ufficiali, perché ad oggi gli ufficiali sono cinque dai 18 di qualche anno fa, quindi sono veramente pochi, e nuovi vigili condivisa, perché noi abbiamo bisogno di uomini e donne formate che stiano sui territori e che escano. Io che sono l'assessorio con delega sarò al suo fianco, ho già comunicato che almeno un giorno a settimana farò ufficio lì e riceverò anche i cittadini che vorranno confrontarsi con la polizia locale.